Metti un caldissimo sabato mattina d'inizio estate, la voglia di uscire di casa, fare quattro chiacchiere, godersi un aperitivo all'ombra del Torrazzo e così il centro storico di Cremona si popola di un colorato universo di persone che fanno lo slalom tra le bancarelle del mercato settimanale in cerca di qualche occasione. C'è tanta gente il sabato mattina? Sì, in questi giorni sì, fino a settimana scorsa c'era di meno, però con le giornate belle, col caldo e così qualcuno si vede. Come vanno le vendite? Diciamo che linea di massima non mi posso lamentare. Non sono andati via per il weekend. Cosa si fa il sabato mattina qui in centro? Un po' di spese e poco più. Vari giri al mercato, poi ci si ferma a fare l'aperitivo, mangiare, se c'è qualche manifestazione, qualche intrattenimento insomma. Molti anche turisti in città muniti dell'inseparabile macchina fotografica per immortalare le bellezze artistiche della città. Sempre il sabato mattina vediamo molte persone, venire qui anche turisti da tutto il mondo, molta affluenza qui. Oltre al mercato ci sono tutti i bar aperti, sempre molte persone, molta vita che ovviamente non si trova tutte le mattine. C'è stato un bel movimento, sì sì col mercato c'è sempre una bella affluenza di gente. Anche tanti stranieri? Sì, ci vedono parecchi turisti quest'anno rispetto agli anni precedenti. Pieno di gente, fa caldo però si sta bene in compagnia. Sempre pieno quando vengo anche per il mercato e tutto. Sempre pieno di gente, è sempre piacevole il sabato secondo me. Perché qui questo sabato mattina? Per i turisti far vedere le bellezze italiane. A chi? Ai miei cugini dell'Inghilterra, anzi del Gallo. È un posto molto carino, ci piace molto, la piazza è bellissima, siamo stati al Museo Stradivari, molto interessante. Le belle giornate sono anche di ispirazione per sosteggiare un drink seduti ai tavolini del bar. Veniamo dalla Svizzera, Cremona è bellissima, abbiamo visitato il comune, il mercato e il centro storico.